L'esposizione, va detto, delle banche europee però è comunque molto contenuta. Basta un battito di farfalla dall'altra parte dell'oceano che qua registriamo una tempesta. Bentornati a TGMAG. Il titolo di questa edizione è Bolle di tensione. Bolle come quelle finanziarie e tensione come quella che si può quasi toccare nelle strade dove è in aumento la violenza giovanile e nello scontro politico tra l'Unione Europea e il governo italiano. Apriamo parlando di calcio, ma non di Milan-Inter e Napoli qualificate ai quarti di finale di Champions League. Parliamo degli incidenti che hanno generato scene di devastazione per un'intera giornata a Napoli. L'incursione piratesca dei tifosi tedeschi ha scatenato la reazione altrettanto violenta del tifo estremo napoletano. Risultato? Oggi si parla più della guerriglia di Napoli che dei due gol di Ozyman ed è il riscatto che i risultati hanno portato all'intero movimento del calcio. Il coinvolgimento dei giovani in atti teppistici sempre più ripetuti ha lanciato un allarme diffuso in tutta Italia. Abbiamo sentito un alto magistrato a Milano e ci siamo recati sui luoghi di altre devastazioni che si sono svolte nei giorni scorsi a Torino per provare a fare il punto alla ricerca di soluzioni efficaci. Negli ultimi mesi, soprattutto dopo il Covid, è cresciuto il numero di reati commessi da gruppi di minorenni. Tra le cause di questo incremento c'è sicuramente la mancanza di empatia, ma non solo. Anche i social network giocano un ruolo importante. I ragazzi oggi, gli adolescenti di oggi, crescono anche con i social o attraverso i social. I social purtroppo non favoriscono uno sviluppo della relazione umana, del contatto. I social vengono diffusi reati commessi nella vita reale. Perché molti di questi ragazzi hanno bisogno di esibirsi. Ecco, la loro esigenza primaria, come se si sentissero invisibili, non visti, non ascoltati, e allora ogni occasione è utile, come per tanti adulti, per postare. Nella maggior parte dei ragazzi che commettono reati in età adolescenziale, ci sono a volte delle profonde e significative lacune educative. Derivano da vuoti, evidentemente, lasciati dalla famiglia, che è la primaria agenzia educativa, ma anche dalla scuola. Il ragazzo che non va a scuola e che non è impegnato, ingaggiato in altre attività, che cosa farà? Ecco, è chiaro che se questo ragazzo proviene già da un contesto familiare problematico, o multiproblematico, rischiano di essere abbandonati a se stessi. Torino, quartiere Santa Giulia, quadrilatero, piazza Vittorio, una sera come tante, la movida tra drink, chiacchiere e leggerezza scorre veloce, ma capita anche di imbattersi in violenza, risse e aggressioni. Ma i giovani come vivono questa movida? Perché episodi di violenza sono ricorrenti qua, però adesso tutto tranquillo. Mai avuto episodi, diciamo, preoccupanti o difficili. Eravamo in tre e sono arrivati questi ragazzi e al mio amico hanno strappato da collane e sono andati via. Un gruppo di ragazzi hanno piccato un ragazzo, l'ha lasciato l'asseso a terra, è arrivata la polizia, è arrivata l'ambulanza e loro sono scappati. E tutti, in particolare le ragazze, hanno una strategia per continuare a godersi la serata. Da sole no mai, in gruppo sì, fino alle undici e mezza puoi stare in giro. Poi in questa zona qua, specialmente dalle undici e mezza, proprio cambia, cambia proprio vista. Cosa vuol dire per te movida? No, per me movida significa semplicemente avere uno spazio dove sentirsi se stessa. La movida in molti casi ci consegna episodi che ci lasciano sgomenti come quando due mesi fa un gruppo di ragazzi proprio qui da questa balaustra sul lungo po' di Torino ha lanciato una bici come questa del peso di circa 15 kg nella passeggiata sottostante colpendo un ragazzo che è tuttora ricoverato in ospedale. Il fallimento della Silicon Valley Bank e le difficoltà di Credit Suisse hanno determinato nelle borse di tutto il mondo una serie di scosse che hanno mandato in fumo miliardi di euro di capitalizzazione. Ma cosa succederà ora? Lo abbiamo chiesto a Luca Davi, giornalista finanziario del Sole 24 Ore, che ci ha fornito le risposte che possono aiutarci a capire. Ma davvero siamo alla vigilia di un'altra Lehman Brothers, una crisi finanziaria di così vasta portata? È cambiato il mondo dal 2008 ad oggi, il sistema bancario in particolare europeo è molto più solido, le banche del vecchio continente sono molto più capitalizzate, hanno fatto un grande lavoro di pulizia sui crediti derirati e oggi quindi sono più solide. C'è un sistema che monitora in maniera molto più efficace la vigilanza bancaria centrale europea, monitora in maniera molto efficace ovviamente le banche europee. Quali rischi corre il mercato europeo dopo il crack di Silicon Valley Bank e la crisi di Credit Suisse? Sui mercati ovviamente ci sono vendite anche violente, il caso Credit Suisse oggi è ovviamente di stretta attualità, l'esposizione va detto delle banche europee però è comunque molto contenuta. Questo dovrebbe teoricamente rendere molto sereno o comunque farci vivere con più tranquillità, ciò tuttavia non è ovviamente del tutto vero anche perché ovviamente basta un battito di farfalla dall'altra parte dell'oceano che qua registriamo come dire una tempesta. Dopo l'aumento dei tassi di interesse di altri 50 punti quali saranno le prossime mosse della Banca Centrale Europea? Difficilmente rivedrà la politica appunto di progressivo rialzo dei tassi che è già stata in qualche modo avviata e se cui si è già in stradata. Perché? Perché darebbe un segnale di grande incertezza di investitori e in qualche modo segnalerebbe probabilmente anche una certa fragilità del sistema bancario europeo a un rischio di contagio ed è quello che la Banca Centrale Europea vuole evitare assolutamente. Stretta tra mille emergenze è Giorgia Meloni. L'inizio del suo governo non poteva essere più accidentato. Oggi per lei è stato il tempo di un nuovo debutto. Ha parlato al congresso della CGL ma l'invito del segretario generale Maurizio Landini non è stato accettato dall'unanimità dei sindacalisti. Ma sentiamo da Bianca Terzoni di cosa la Premier ha parlato e soprattutto come ha presentato la riforma fiscale varata ieri in Consiglio dei Ministri. Bianca? Sì Sara, lo dicevi tu. Ieri in Consiglio dei Ministri è stato dato il via libera alla riforma fiscale di cui ricordiamo uno dei pilastri portanti alla riduzione a tre aliquote sull'IRPEF, l'imposta sul reddito e l'IVA azzerata per i beni di prima necessità. C'è stato dato il via libera anche alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina con un progetto esecutivo entro il 2024. Ricordiamo però che comunque quello che riguarda il fisco è comunque una delega e quindi le norme vanno ancora tutte scritte. Proprio la riforma fiscale è stata al centro del discorso che ha tenuto pochi istanti fa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Congresso Nazionale della CGL. È stato molto importante perché per la prima volta una leader, un Presidente del Consiglio di destra ha partecipato al congresso di un sindacato. Punti importanti sono stati la necessità della crescita economica per favorire anche la crescita occupazionale. Ha ribadito che la ricchezza è creata dalle aziende e lo Stato deve mettere a punto delle regole. E questo è al centro di quello che lei ha detto aver presentato come riforma fiscale dal suo governo che a sua detta è stata anche contestata molto frettolosamente dalle opposizioni. Interessante è la presa di posizione anche sul salario minimo che ha detto che non può essere una soluzione che si contrappone un po' all'idea di questo cosiddetto campo largo che si sta formando tra leader nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Partito Democratico Elish Line che invece si trovano molto d'accordo appunto sull'introduzione del salario minimo, sulla sanità e sui diritti. Sempre all'interno del suo discorso la Presidente ha ricordato anche l'importanza dell'ascolto e quindi ha detto ringrazio anche chi mi contesta e quest'idea dell'unità. Proprio in questo giorno infatti in cui riformo in 162 anni dall'unità d'Italia infatti c'è stato proprio un augurio stamattina anche dalla Presidente che in un tweet ha augurato, augura chi ama l'Italia e a chi lavora ogni giorno per rendere grande la nostra nazione. E' stato importante anche un discorso del Capo dello Stato e qui chiudo il Presidente Sergio Mattarella che ha parlato dei valori civili di convivenza, libertà, democrazia e l'importanza della partecipazione allo Stato di diritto costituzionale. C'è stato un riferimento appunto anche alla nostra Costituzione che garantisce risorse per sfide complesse e ha anche detto una cosa riguardo alla guerra in Ucraina dicendo che sulle guerre serve una risposta unitaria. Qui chiude e ti restituisco la parola. Grazie Bianca. Tra gli spunti del Congresso della Confederazione Sindacale figura anche il problema pensionistico. La scelta di Macron in Francia di alzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni ha generato proteste fortissime da parte dei lavoratori. L'eco si è presto spostata in altri paesi. Italia compresa, dove, lo ricordiamo, l'età pensionabile è già più alta. Si può smettere di lavorare solo a 67 anni. Il ritardo della pensione di due anni non piace ai francesi. Le proteste inondano le strade di Parigi, i sindacati sono uniti contro la riforma e la credibilità del presidente Macron è messa in gioco. In ballo c'è questa questione di chi ha la legittimità democratica. Un presidente che è stato eletto aveva un programma in cui c'era come grosso boccone, diciamo, la riforma di pensioni. Ma la gente dice, ma io l'ho votato perché non venisse estrema destra, la candidata è estrema destra, non lo votavo per il suo programma. Invece la gente ha capito solo, cioè, quello che la gente dice, noi non vogliamo, ci tolgono i due migliori anni, praticamente i due migliori anni di pensione per trasformarli nei due peggiori anni di lavoro. Resterà una frattura proprio sull'idea di democrazia. Questo sarà grave, è grave, è grave, perché sarà difficile riassorbire questa cosa qua. In Italia, secondo la legge Fornero, si può andare in pensione a 67 anni. Quota 103 permetterebbe di smettere di lavorare a 62 anni, ma c'è un'età giusta per andare in pensione? Quota 103 non si può assolutamente dire che è il superamento della legge Fornero, che continua invece a essere viva e continua a essere il requisito di accesso al pensionamento per moltissime lavoratrici e lavoratori. Mentre noi abbiamo bisogno oggi, e a maggior ragione in prospettiva futuro, di dare dei requisiti certi a tutti e che siano dei requisiti che non debbano poi scaricarsi per le persone in differenze. E noi da sempre abbiamo sostenuto che da 62 anni in su si può immaginare una flessibilità in uscita che permetta alle persone di scegliere quando andare in pensione. Oggi il tema vero è che chi decide di andare prima sta decidendo di prendere di meno. Dobbiamo parlare di lavoro. Cioè il lavoro è il fattore trainante di qualsiasi riforma di natura previdenziale. Fino a qualche mese fa, l'emergenza che coinvolgeva tutti era legata alle cronache di guerra che giungevano dall'Ucraina, dove sembrava che la Russia fosse destinata a una facile vittoria sul paese invaso. Così non è stato e si continua a combattere. Ora tutti ripongono grandi speranze nel viaggio che da lunedì a mercoledì porterà il leader cinese Xi Jinping a Mosca. Con Putin si parlerà di cooperazione, ma non è improbabile che si affronti il tema ucraina con il rilancio di una mediazione cinese. Non resta che aspettare, mentre le notizie sul campo raccontano una fase di stallo. Si continua a combattere, ma nessuno prevale. Per un effetto diretto delle bombe lanciate dai russi, il patrimonio artistico ucraino è stato fortemente danneggiato. Un gruppo di studenti ha provato a tracciare una mappa dei danni radunando le proprie ricerche in un sito internet. Un gruppo di studenti Qui puoi andare al nostro canale dove puoi vedere e investigare tutte le stranze per esempio se puoi andare al mio città We can see that library was damaged, this is our house of culture, which was completely destroyed. Since the beginning of the war in Ukraine, Russians have been purposely destroying the objects of cultural heritage of Ukraine. Their aim is to do as our culture have never existed, because that is their main purpose of propaganda, that all it was is Russian culture and Ukraine never existed. So all they are trying to do is not only to destroy current Ukraine, but to erase any evidence of ancient Ukrainian culture. And since the start of the full-scale invasion, it's more than 1300 objects of cultural infrastructure were damaged. And a lot of them really are stolen from occupied territories like Mariupol. This is the reason why I decided to join the fund, because I feel that it's not only important to defend our physical environment, our lives and future of our country, but our culture, because this war is mainly based on culture. This is the reason why the Great Britain came out of Ukraine and it's been a part of Ukraine. This is the reason why the Great Britain did not to destroy the front of Ukraine of Ukraine, as well as the population of Ukraine. Italia, gli atti di nascita registrati in altri paesi dell'Unione da coppie omogenitoriali. Il sindaco di Milano Beppe Sala aveva già aperto a questa possibilità, ma ora dal governo è arrivato un brusco arresto. Abbiamo registrato un commento che arriva dal basso, da chi in questa vicenda di adozione è direttamente coinvolto. Noi siamo due papà, nostro figlio è nato negli Stati Uniti, anche sul certificato di nascita di nostro figlio c'era solo uno dei due genitori e quindi Tommaso è stato adottato dal genitore intenzionale prima negli Stati Uniti ed Atlanta con un'audienza di sei minuti in cui il giudice in sei minuti è riuscito a capire quello che qui si fa finta di non capire in tanti anni e dopodiché in Italia è stata riconosciuta la sentenza di stepchild adoption americana. Il problema in Italia sono soprattutto i bambini che sul certificato di nascita hanno due genitori dello stesso sesso, nascono all'estero, vengono in Italia e quindi si chiede la trascrizione del certificato di nascita all'anagrafe italiana, come sempre succede per i figli di italiani nati all'estero e il problema è di inserire due genitori dello stesso sesso. Alcuni comuni come Milano lo stavano facendo, con questo caldo invito della prefettura al sindaco di Milano, il comune di Milano ha deciso di interrompere. La prefettura avrebbe altrimenti impugnato tutte le trascrizioni. Stanno venendo impugnate già quattro almeno trascrizioni già effettuate, il che vuol dire che un bambino che come tutti è figlio dei suoi due genitori, dall'oggi al domani potrebbe per una sentenza non avere più uno degli altri due, che gli venga portato via ufficialmente. Quindi uno dei due genitori perda completamente il suo ruolo e diventi un illustro sconosciuto. Si fa del danno esclusivamente ai bambini, non c'è nessun interesse a difendere questi minori. L'unico interesse è quello a colpire ideologicamente le copie omosessuali attraverso chi? I bambini, che sono quelli che non hanno colpa. Questa è stata anche la settimana della sensibilizzazione e della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità rappresentano la seconda causa di morte, con circa 4.000 decessi all'anno tra i 12 e i 25 anni. Molto spesso i disturbi alimentari vengono circoscritti ad un problema con il peso, ma c'è molto di più. Si tratta di malattie e per curarle è necessario un approccio multidisciplinare. Abbiamo sentito Alba e Laura, volontarie di Animenta. Nella cura dei disturbi alimentari si tende a utilizzare il termine caso grave per indicare un paziente che manifesta un calo di peso significativo e pericoloso per la sua salute. Una selezione però del tutto ingiusta in quanto la perdita di peso è una conseguenza di certi disturbi alimentari e non di tutti, che meritano invece di essere ugualmente curati. Io ne ho sempre voluto parlare del mio disturbo. Sembrava una cosa che io dovessi nascondere. Però appunto io ho sempre parlato del mio disturbo alimentare, di come va a influenzare poi, andava a influenzare. La mia vita a me faceva talmente tanto arrabbiare, cioè io non voglio vergognarmi della mia malattia. Alba condivide la sua esperienza sui social. Con il linguaggio delle nuove generazioni cerca di parlare di una tematica complessa, i disturbi del comportamento alimentare. Ero a casa, era tardi e avevo fame. E mi mangio una pera. Tranquilla in realtà. È stato il dopo. Sono stati i sensi di colpa. Perché ti giuro io non mi davo spiegazione a quel dolore derivato da una pera. E un giorno i miei si arrabbiano perché appunto io non tocco cibo a tavola. Finché non arriva un momento dove io dico a mia mamma, sì mamma, ho bisogno di aiuto. Oggi i disturbi alimentari colpiscono più di 4 milioni di persone, soprattutto ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni. Tra le tante realtà impegnate in questa battaglia, Alba e Laura sono volontari di Animenta. Animenta è un'associazione di promozione sociale. Nasce proprio dalle storie, quindi proprio raccogliendo e raccontando i disturbi del comportamento alimentare non solo sotto il profilo clinico, ma proprio attraverso una narrazione che sia un pochino più rappresentativa della realtà dei fatti, cioè che risponda a cosa vuol dire soffrire un disturbo alimentare. C'è un mondo dietro che purtroppo in qualche modo è stato spesso nascosto da una comunicazione errata. Quindi una delle cose più importanti da fare è focalizzarsi sul vissuto delle persone, su quello che provano, sulle storie sostanzialmente. Consapevole che ovviamente ogni storia è a sé non si può poi fare un discorso universale. Parliamo ancora di cibo, ma di cibo per il momento non ancora accettato da tutti. Avete mai sentito parlare di farine sintetizzate con gli insetti? Eleonora Bufoli e Maria Colonnelli si sono proposte come tester della novità. Ecco la loro impressione. Siamo qui da Pane Trita in Porta Romana Milano. Qui per la prima volta in Italia è arrivato il panino con la farina di grillo. Il suo lancio è stato reso possibile dal 24 gennaio quando l'Unione Europea ha approvato l'utilizzo della farina di grillo anche in ambito culinario. Noi abbiamo sviluppato questo panino facendo una sorta di hamburger che poi semplicemente è una polpetta a base vegetariana con fiocchi di patate, crema di cannellini e ceci. All'interno c'è la farina di grillo. Noi abbiamo sviluppato un panino col pane verde perché vogliamo un po' provocare il pane verde grazie all'alga spirulina che ha questo colore. Abbiamo deciso di utilizzare la farina di grillo perché comunque pensiamo che il futuro sarà anche questo. Quindi ci stiamo provando e ci abbiamo provato e comunque i numeri ci danno ragione. Ed ecco qua il nostro grillo cheeseburger. E adesso lo assaggiare. La scorsa settimana si è chiusa con la consegna degli Oscar, una sorta di bilancio annuale sulle produzioni cinematografiche. Qualcosa da qualche stagione sta cambiando. Accanto ai produttori tradizionali si affiancano sempre più numerose le nuove piattaforme nate per distribuire i film. Ma ora passate anche alla fase più complessa della produzione. Un normale processo di modernizzazione del sistema. È sempre stato così. Nel 2019 per la prima volta Netflix vinceva ben due premi Oscar con Roma di Alfonso Cuaron, tra cui quello di miglior film internazionale. Oggi trovare tre candidati dei vari festival cinematografici, film prodotti e distribuiti da piattaforme è diventato una normalità. La diffusione dello streaming prevede dei costi fissi per le infrastrutture, eppure è il settore più in ascesa. Il vantaggio di questo business rispetto a quello tradizionale è che tu non hai costi di distribuzione importanti. Quello che costa appunto sono questi costi fissi e viene spalmato questo costo sul numero più alto possibile di consumatori. Cerchi di affermarti il più possibile con una varietà di prodotto e col prodotto locale. Perché visto che il prodotto locale comunque funziona. A volte le persone hanno paura delle cose che non conoscono. Loro producono e distribuiscono, ma i produttori non sono loro. Loro finanziano i film. Anche Warner e Fox non erano produttori in provo. I film prodotti erano due, tre, quattro all'anno. Il resto era acquisito da fuori. Quest'anno agli Oscar c'è però stato un un plan inaspettato. La A24, già produttrice in passato di film di successo come Moonlight, Midsommar e della serie Record Euphoria, ha trionfato con Everything Everywhere, All At Once e The Whale, nove statuette all'insegna della creatività. La loro caratteristica è di non avere una vera e propria linea editoriale. La loro strategia è stata molto intelligente perché ha detto vogliamo fare film d'autore ma non per un pubblico adulto. A questa cosa sono riuscito a farla sia come scelta di prodotto sia come comunicazione. L'incognita principale riguarda però i cinema. Tra le poche case indipendenti rimaste e le brevi finestre di passaggio dei film delle piattaforme, quale sarà il loro futuro è difficile dirlo. Spielberg l'aveva detto qualche anno fa, le sale diventano la vetrina, il lancio, più delle volte dei grandi film, blockbuster, e poi passeranno direttamente sulla piattaforma. A proposito di cinema, non dimenticate l'appuntamento domenicale con la nostra rubrica Chuck Mag. Il film scelto per questa settimana è Mixed by Henry di Sidney Sibilia. Racconta la storia Federico Frattasio e del suo business di musica sette illegali nella Napoli degli anni 80. Di sport abbiamo parlato in apertura, ma non per celebrare le prodezze delle nostre squadre in Champions League. Di prodezze invece i nostri club ne hanno realizzate. Non accadeva dal 2006 che tre si qualificassero ai quarti di finale di Champions League. Anche nelle altre coppe la nostra presenza rimane rilevante. Ora ci sono tre settimane di tempo in attesa del prossimo turno. Ci sono appena stati i sorteggi. Inter-Benfica, Milan-Napoli, Manchester City-Bayern e Real Madrid-Celsea. Il commento lo affidiamo a Riccardo Trevisani. Non pensavo a niente di meglio che tre italiane dalla stessa parte del tabellone nelle semifinali di Champions League. È stato veramente sorprendente quello che è accaduto. Molto fortunato. Abbiamo tre possibilità su quattro di andare in finale a Istanbul e non era così scontato. C'è da battere il Benfica che è una squadra di grande tradizione europea che non vince mai le finali ma spesso in finale ci arriva. Quindi io credo che siamo stati molto fortunati. Poi se Milan o Napoli passeranno questo ce lo dirà il campo. Per concludere ti dico che sull'Europa League secondo me non è andata così male. Nel senso che se è evitato lo United almeno per il primo turno poi la Juve ce l'avrà eventualmente in semifinale. La Roma ha preso il lato debole del tabellone. Anche se il Feyenoord è una squadra fastidiosa in campo e fuori legato a quello che sono i tifosi del Feyenoord che sono peggio di quelli dell'Eintracht se è possibile. Quindi non sarà comunque una passeggiata. Però insomma poi dopo Bayer Leverkusen o Union San Giluas non è male e ti dico a sorpresa che penso quasi che possano passare i belgi piuttosto che i tedeschi perché è una squadra sorprendente che gioca un bellissimo calcio e che ha un piccolo Simen in attacco che si ha buoni pass e io penso che ci divertiremo ancora nel senso che magari non ne passeranno sei proprio matematicamente non può succedere ma penso che il calcio italiano possa dire ancora la sua. Magari non avremo risolto tutti i nostri problemi però dal punto di vista numerico e del farci rivedere a grandi livelli in Europa qualcosina stiamo facendo ed è un piccolo primo passo. Poi bisogna aggiustare anche tante altre cose per tornare ad alto livello. Per esigenze di sintesi vi riepiloghiamo tutti gli accoppiamenti. In Champions League le partite saranno Milan-Napoli, Inter-Benfica, Real Madrid-Celsea e Manchester City-Bayern-Monaco. Ricordiamo che le semifinali saranno tra le vincitrici dei primi due match, fatto che renderà inevitabile il derby italiano in caso di qualificazione dell'Inter. Rischio invece evitato in Europa League dove la Juve che affronterà lo sport in Lisbona e la Roma che sfiderà gli olandesi del Feyenoord sono in raggruppamenti diversi e quindi possono affrontarsi solo in finale. In Conference League invece la Fiorentina incontrerà il Lake Poznan. Dopodomani è il 19 marzo, la festa consacrata a tutti i papà. Abbiamo voluto ricordare questa figura fondamentale nelle nostre vite con il servizio di Controcopertina con il quale vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Poter ricordare la festa del papà è un privilegio, un privilegio che purtroppo non tutti hanno ed è proprio per questo che noi fortunati, noi che possiamo ancora dire auguri papà, dobbiamo apprezzare ogni giorno la fortuna che abbiamo. Il papà è il mio primo tifoso ed è quella persona che mi fa sorridere anche nei momenti difficili. Per me papà è quella persona che se sto male, se non riesco a parlare ma solamente a piangere, sa prendermi tra le sue braccia e capire tutto anche senza parlare. Per me papà è una dolce sicurezza, è un'ispirazione generosa che non ha bisogno di spiegazioni quando indica la strada da seguire, papà è ricordi di bambino e momenti felici del presente.